Guadagna di più un grafico o un fotografo? Che lavoro mi conviene scegliere rimanendo in ambito creativo, puntando ad avere una situazione di stabilità e anche di dignità che oggi giorno, soprattutto in Italia, non è così facile da trovare? Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e oggi vi parlo della mia esperienza in ambito fotografico e grafico. Vado a raccontarvi quello che è il mio parere su quelli che sono i guadagni che si possono ottenere da queste due professioni, che è vero che hanno degli ambiti in comune, ma fondamentalmente sono due cose abbastanza diverse. Prima di cominciare però, io vi ricordo che mi occupo appunto di questo, quindi fotografia, ma anche grafica, design e videomaking, quindi se questi argomenti vi interessano, se volete rimanere sempre aggiornati, il mio consiglio è ovviamente di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto e attivando anche la campanella. Andiamo a incominciare. Comincio col fare una grossa distinzione. Nella mia esperienza, quindi non è detto che sia la verità, però nella mia esperienza normalmente il fotografo è un freelance, il grafico, il designer è più facile che possa venire assunto da un'azienda. Quindi ovviamente anche il fotografo può venire assunto, io ne sono la dimostrazione, però il designer è più facile che venga assunto, perché un'azienda, soprattutto un'azienda strutturata, ha tutto l'interesse ad avere un marketing interno, un branding interno, un reparto comunicazione social in generale interno che si occupi di portare avanti determinati compiti. E questa, come capite bene, è un'attività che è continuativa, cioè va avanti tutto l'anno, va avanti per tutto l'iter di esistenza dell'azienda stessa. Con il fotografo non è altrettanto vero, e questo ve lo posso dire in maniera sicura, vi faccio l'esempio della mia esperienza con diverse aziende. L'azienda non mi assume, l'azienda mi ingaggia, l'azienda mi chiama per quella giornata lì perché ha necessità di fare le foto di un nuovo prodotto, di un nuovo servizio, di un evento, ma un'azienda non ha interesse nella maggior parte dei cai, qualcuna sì, però normalmente un'azienda non ha interesse ad avere il fotografo in sede 365 giorni l'anno, quindi è difficile venire assunti come fotografi. Si viene assunti come fotografi da un'agenzia o da un'azienda molto molto strutturata, ma anche lì di solito si viene ingaggiati. Quindi questa è una prima differenza importante perché capite bene che laddove un designer, beh poi attenzione, un designer può anche decidere di rimanere freelance, se vuole più libertà, se si trova bene in partita IVA, però di solito uno punta a farsi un po' di anni in partita IVA per fare esperienze e poi farsi assumere. Questo è quello che ho visto succedere la maggior parte delle volte, è quello che ho fatto io stesso come fotografo e designer, io sono più fotografo che designer, però insomma diciamo che i miei ambiti di competenza sono sovrapposti o faccio entrambe le cose. Un designer può decidere di rimanere freelance, ma probabilmente a un certo punto si fa assumere per avere una tranquillità maggiore. Un designer lo fa più facilmente rispetto a un fotografo, rispetto a un fotografo puro quantomeno, perché un designer ha tutta una serie di competenze trasversali che possono essere la realizzazione di mock-up, la realizzazione di grafiche, volantini, stampa, cartellonistica, social media, soprattutto social media, che magari a un fotografo puro mancano. Il fotografo puro a sua volta ha tutta una serie di competenze che al designer mancano completamente. Il fotografo è innanzitutto probabilmente alla strumentazione che il designer non ha, è capace di gestire le luci, è capace di capire come si fotografa una determinata cosa, però sono due cose fondamentalmente diverse. Abbiamo già visto da questa prima distinzione che non fanno le stesse cose. Può essere che un designer debba fare del fotoritocco e può essere che un fotografo debba mettere delle grafichine su una foto, però più o meno la competenza sovrapposta si ferma lì. Fanno due cose sostanzialmente diverse. La grossa differenza è che un fotografo normalmente verrà sempre ingaggiato per fare le foto di una determinata cosa e poi finisce lì la collaborazione, mentre un designer è molto facile che venga assunto. Quindi il designer secondo me è avvantaggiato perché può scegliere, può scegliere di rimanere freelance ma può scegliere anche di farsi assumere e ovviamente se decide di farsi assumere ha un guadagno garantito per tutta la durata dell'anno mentre il fotografo fa più fatica perché tutte le volte deve cercarsi un nuovo cliente. Questa è la prima grossa differenza. Seconda grossa differenza, sempre in base alla mia esperienza, ovviamente voi potete contraddirmi e contestarmi perché magari avete avuto dei contesti di lavoro o conoscete chi ha avuto dei contesti di lavoro completamente diversi e io sono contento se mi raccontate qualcosa che non è uguale a quello che so già perché così imparo delle cose anch'io. Quindi non abbiate timore di raccontarmi cose diverse da quelle che vi sto dicendo. La seconda grossa differenza che io ho rilevato è che nel momento in cui, facciamo un esempio, io vado presso uno showroom che vende cucine, quindi uno showroom di arredamento di fascia medio alta, quindi insomma bei prodottini, nel momento in cui io vado a fare un servizio fotografico presso questo showroom, il mio lavoro ha un certo valore. Non vale tantissimo, non ve lo nascondo, perché nel momento in cui io vado a fare uno shooting di questo tipo, sì è vero, mi faccio pagare la giornata e uno shooting di questo tipo qualcuno mi aveva chiesto le quotazioni, io non posso darvi le quotazioni perché dipende dal cliente, da quanto è grande, da che rapporto avete col cliente, da quanto siete bravi voi, da quanto siete esperti, quanto è lontano dalla vostra casa base, quanta strumentazione vi portate. Non posso farvi una quotazione, però diciamo che per un lavoro del genere dovreste prendere tra i 400 e i 1200 euro, una roba del genere. Se state facendo uno showroom di arredamento medio alto non dovreste andare sotto i 400, difficilmente andate sopra i 1000, quindi un range di questo tipo. Ovviamente si parla comprensivo di post produzione, consegna del prodotto finito ovviamente. Capite bene che ha un costo di un certo tipo, stimiamolo intorno ai 1000 euro. Ora, stesso cliente, però in questo caso abbiamo un designer che gli sta facendo una grafichina per i social media. E attenzione però, quella campagna sui social media, con la foto che ha fatto il fotografo magari, però quella campagna viene sponsorizzata magari per 2000 euro. Quindi capite bene che il lavoro del designer è già valutato di più rispetto a quello del fotografo, perché il fotografo è stato pagato 1000 euro massimo e finita lì. Inoltre abbiamo avuto a che fare col fotografo per un solo giorno, mentre col designer abbiamo a che fare più a lungo, perché col designer bisogna vedere le bozze della campagna, bisogna vedere le informazioni, il claim, come posizionare il logo, come posizionare la foto, i formati, il formato verticale, il formato orizzontale, il quadrato se vogliamo fare un mini video. Insomma, ha a che fare più a lungo con il designer. Quindi di solito lo assumi, te ne prendi uno interno, perché è un lavoro continuativo. Inoltre, nel momento in cui tu stai mettendo, e vi do delle cifre realistiche, magari stai mettendo 2000 euro di budget, lo so che a molti sembrerà una roba incredibile, perché magari qualcuno di noi, poveri, piccoli, privati, noi non siamo brand, magari qualcuno di noi ha messo 10 euro per sponsorizzarsi una foto di Instagram una volta e ha ottenuto quei 4 like in più. Sappiate che i brand lavorano su ben altre cifre. Adesso io vi dico 2000 euro su una campagna social, ma 2000 euro è poco. I brand, quelli grossi, mettono 4 zeri molte volte. Quindi vi sto parlando comunque di una cosa abbastanza terra-terra, però è una cosa normale. Nel momento in cui un'azienda sponsorizza un post, gli mette magari 2000 euro di budget. 2000 euro di budget significa che già ci sono in giro più soldi di quelli che abbiamo messo in giro per il fotografo. E oltretutto dobbiamo anche pagare il designer. Quindi abbiamo 2000 euro di budget e 1200 euro per il designer, magari. Comunque prende uno stipendio standard. Quindi capite che il designer è già avvantaggiato, perché fa un lavoro che è percepito come di maggior valore, perché stanno girando più soldi. Inoltre è il lavoro del designer, e vabbè, del social media manager, della DV specialist, che stanno facendo la campagna, è quello che porta effettivamente dei clienti in negozio. Per cui l'azienda percepisce il lavoro del fotografo come una sorta di cosa di passaggio, mentre quello dove si concretizza veramente è quello del designer e quello della DV specialist, perché effettivamente sono quelli i passaggi che ti portano i clienti in negozio. Quindi questo lo dico non per svalutare la mia professione. Io ci metto tutta la professionalità nel farglielo shooting, però capite bene che il cliente poteva fare a meno di me, perché poteva farsi fare una campagna di sola grafica, e quindi gli bastavano il designer e la DV specialist. La foto è una cosa in più, è una cosa molto bella, che sicuramente arricchisce di un carico emozionale, rende un pochettino più autentica la comunicazione, però è veramente l'ultimo tassello, che si può anche togliere. Per cui, questo per dirvi che, e arrivo alla mia esperienza, io personalmente sto guadagnando di più come fotografo che come grafico, che come designer. Però vi segnalo questa cosa, appunto, che là fuori nel mondo, cioè io sono un'anomalia, soprattutto nell'ambiente italiano, a mio parere si può guadagnare molto di più come designer e come social media manager, piuttosto che come fotografi. Intanto perché è più facile vendersi, è più facile farsi assumere, potenzialmente girano più soldi, potenzialmente è più facile instaurare un rapporto di lunga durata col cliente, perché si comincia ad avere una collaborazione continuativa, a differenza che col fotografo è più difficile, perché io, una volta che vado a fare un servizio fotografico per un mio cliente, e quello poi per tot mesi non ha più bisogno di me. Tenete conto che nell'economia della mia settimana, io mi dedico un giorno a settimana a fare fotografia, il resto della settimana comunque io faccio, non voglio dire design, perché non è che sono un designer fatto e finito, mi occupo di cose che hanno più attinenza col mondo del design che con quello della fotografia. Mi occupo di impaginazione, mi occupo di campagne, mi occupo di grafiche in senso stretto, mi occupo tantissimo di cartellonistica. E quelle cose lì, attenzione, nonostante io alla fine veda più soldi dalla fotografia, perché comunque ho più situazioni a livello fotografico e video, quindi mi arrivano più soldi dalla situazione fotografica, però la maggior parte del mio tempo io lo passo a fare grafiche, lo passo a fare branding, design, a fare impaginazioni, e a fare tantissima cartellonistica e tantissime campagne social. Quindi quelle cose lì, sono comunque dentro nell'ambito creativo, sono le cose che, su cui io passo la maggior parte del mio tempo, sono le cose che le aziende richiedono maggiormente, sono le cose che ti danno la maggiore stabilità, perché sono cose che il cliente ti richiede in maniera continuativa, e quindi finisce che passi più tempo a fare quelle. Vi dico questa cosa per raccontarvi come mai, secondo me, è più vantaggioso fare il grafico, il designer piuttosto che fare il fotografo, perché fare il fotografo è un lavoro spot, mentre fare il designer, fare il grafico, fare anche la DV specialist, per carità, sono tutti lavori che richiedono un impegno continuativo, e quindi ci permettono sicuramente di guadagnare di più e di avere una sicurezza maggiore. Vi racconto questo, perché molti hanno dubbi su che strada intraprendere, su cosa specializzarsi, ora io ovviamente non è che voglio dissuadervi dal intraprendere la strada della fotografia, ci mancherebbe, soprattutto se lo fate come hobby, se lo fate come hobby è pacifico, potete fare tutto quello che volete. Se ci state pensando come lavoro, il mio consiglio non è di abbandonare la fotografia, assolutamente no, però affiancatela con una buona dose di design e di consapevolezza su quelli che sono i processi che vengono messi in campo dopo che è stata scattata la foto. Questo vi darà un mindset e una visione di insieme che potrebbe essere apprezzata da aziende che potrebbero decidere di assumervi, non come fotografi, ma come designer. È quello che è successo a me. Io non sono stato assunto come fotografo, io sono stato assunto come designer e come social media manager con il benefit di avere la strumentazione e di poter andare a realizzare i contenuti in prima persona. È un benefit gigante, ovviamente, però non sono stato assunto come fotografo, non cercavano un fotografo, cercavano qualcuno che sapesse prendersi cura dei processi di stampa di tutto quello che è l'output di alcuni clienti finali, tra cui lo showroom di cucina viene sopra citato. Bene, amici, io non voglio dilungarmi troppo. In questo breve video vi ho raccontato chi guadagna di più, secondo me, tra un designer, un grafico e un fotografo. Spero che la risposta non vi abbia sbalestrato troppo. Vi ricordo che se volete rimanere aggiornati su temi di questo tipo, l'unica cosa da fare è cliccare il bottone iscriviti qui sotto e attivare anche la campanella per non perdere le notifiche. Lasciate anche un like a questo video perché se vi ho messo sulla giusta strada mi dovete un grosso favore. E con questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.